Oramai lo studio è finito, se ne parla a novembre, fino a novembre metteteci, lasciateci stare a noi, non a tutti. E voglio dire solo questo. Volevo ribadire la posizione dell'università che è stata presa dal Rettore del Rufa, perché è assolutamente ridicolo mettere in contrapposizione gli studenti o i cittadini. Sicuramente in una delle prossime assemblee possiamo parlare anche della situazione studentica. Questa però è completamente una scusa, gli studenti ora proprio non ci sono. Non per fare esami, il problema si... Ma l'ha già fatto, l'ha già fatto.